uomini e donne vacanze da single per i da platano cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti del trono over la dama si mostra sui social da sola sulle coste della sardegna e sul web monta il dubbio che la sua relazione con vicinanza sia giunta al capolinea cosa sta succedendo tra una delle poche e più discusse coppie uscite dall'ultima stagione di uomini e donne le stories in solitaria condivise da i da platano sui social hanno fatto tremare i followers che temono una rottura con alessandro vicinanza c'è anche da dire che non è la prima volta che la loro storia viene definita al capolinea per cui potrebbe essere le solite voci senza fondamento ma ad oggi non è uscita alcuna dichiarazione dei diretti interessati dopo un inizio storia con il botto dove hanno girato in lungo in largo l'italia con qualche cappatina a parigi miami e mykonos ora la bresciana si è mostrata in sardegna ma del suo giovane imprenditore nemmeno l'ombra nessuno dei due si è sbilanciato o ha lasciato trapelare qualcosa smentendendo quindi le voci circolate sul web sta di fatto che lei è a cagliari a prendere la tintarella e lui in costiera amalfitana a bere drink con gli amici i ben informati hanno però intercettato una diretta dell'ex cavaliere che nei giorni ha parlato di come in questo periodo sia particolarmente preso con il lavoro e sia questo il motivo per cui la dama se ne sia andata in sardegna da sola che non è andata in sardegna da sola